Ci prendiamo questa vittoria, arriviamo in Zareddi dopo un anno di pieno di... È stata dura, è stata dura, dura, dura. Non so come esprimermi, è stata veramente dura. C'è anche la tua firma sulla salvezza, hai fatto alcuni interventi importanti anche oggi, soprattutto su De Cerchio. Sì, sì, io sono la posta, mi pagano per fare questo, quindi andrà bene, dai. Ancora non riesco a mettere bene in chiaro che siamo rimasti in Zareddi, perché è stata veramente dura. Ti pagano per parare, ma non ti pagano forse per fare gli assist, oggi è anche quello. Vabbè, dopo tanto l'ho fatto un altro assist, l'anno scorso però ho fatto uno, quindi stanno... Ripeto, ancora andrà bene, oggi è andato tutto per il verso giusto, quindi... Senti, tu c'eri dall'inizio della stagione, sono cambiate tante cose, tu sei uno dei superstiti. Chi meglio di te ci può raccontare quanto è stata difficile questa salvezza? Io ringrazio mia moglie, congelimi questa cosa perché mi è stata tutto l'anno. Io stavo nervoso quando tornavo a casa, i tifosi fuori dal campo ogni volta, la gente pure su internet, scrive a Facebook qualche parola. Io dico sempre che bisogna parlare, sempre alla fine, ma all'inizio, sempre alla fine bisogna parlare. E ora si riparte? Ora si riparte, sei più forte di prima, intanto stasera ci facciamo qualche birra e da inizio giugno ricominciamo. Dedica la moglie Ea? Alle mie due figlie, Eva e Emma. Grazie.